Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati nel consulito appuntamento settimanale con il riassunto di tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici durante il corso della settimana. Cominciamo con la prima notizia, cominciamo con parla di un nuovo acquisto che ho fatto nella scorsa settimana. Ho comprato la Chromecast, sapete che cos'è? Quella chiavetta HDMI che si attacca ai televisori e che consente lo streaming dei contenuti presenti sul proprio device Android, tablet o smartphone e presenti sul proprio PC tramite Google Chrome sulla propria TV. I servizi attualmente non sono tanti perché come avete avuto modo di vedere l'applicazione ufficiale è soltanto quella di YouTube, poi c'è Netflix e altre cosine che noi in Italia non abbiamo e tramite browser c'è la possibilità di riprodurre i contenuti che visualizziamo sulle varie schede di navigazione, quindi anche contenuti in video e che magari state vedendo un video su YouTube sul proprio PC e potete trasmettere sulla Chromecast naturalmente con audio e video. Grazie a questo nuovo apparecchio c'è stato tanto fermento, c'è stata tanta curiosità da parte degli sviluppatori che hanno realizzato applicazioni terze parti. Una delle applicazioni terze parti che vi consiglio è Videostream. Che cos'è Videostream? Videostream è una estensione per Google Chrome che si completa con le ultime versioni con un contropatto e con un programmino che è possibile installare su Android che funge da telecomando che consente lo streaming di file video presenti sul proprio PC, contenuti locali. Che cosa intendo per contenuti locali? MP3 e video. Video inizialmente in formato MP4 ma notizia di questa mattina che ho appena postato sul blog è stata aggiunta con la versione 1.0.18 la possibilità di streamare anche AVI, MKV e WMV in formato video quello di Microsoft. Quindi adesso sfruttando questa potente estensione sarà possibile riprodurre anche i filmati che avete normalmente sul PC grazie appunto alla Chromecast e trasmettere la Chromecast. La sto utilizzando questa estensione perché è molto comoda perché per uno come me che guarda tante serie subate la possibilità di vederselo sul televisore grande senza stare a copiare, a fare e dire ogni volta è interessante anche perché questo tipo di questa estensione consente anche la riproduzione di sottotitoli, quindi se avete i sottotitoli basterà indicarli nell'estensione e verranno aggiunti al filmato video. Anche se c'è qualche piccola incongruenza, ho notato che ogni tanto si perde qualche rigo quando c'è molto testo, comunque devo vedere un po' di smanettare per capire come fare a risolvere perché molto probabilmente si può risolvere. Comunque se avete la Chromecast vi consiglio, consiglio a tutti quanti di installare questa estensione, poi nelle prossime settimane arriveranno altri trucchi e consigli su altre estensioni e programmi per poter riprodurre i contenuti locali grazie alla Chromecast sulla propria tv. Passiamo adesso a un post realizzato da Stefano su Novena. Novena che cos'è? È un laptop completamente open hardware. Quasi due anni fa due sviluppatori hanno deciso di farsi un laptop, di costruirsi proprio l'aptop senza però riciclare componenti già esistenti, ma progettando ne ogni singola parte. N'è nato il progetto Novena, che è su una piattaforma di crowdfunding, di finanziamento, che a circa 40 giorni dal termine della campagna di finanziamento ha già raggiunto metà dell'obiettivo. I prezzi, non ve li dico perché sennò puoi iniziare a dire che i prezzi sono proibitivi e quant'altro. Effettivamente i prezzi sono elevati per questo laptop completamente open hardware, però sappiate che si tratta di un lavoro amatoriale, si tratta quindi di pezzi che devono essere prodotti, non è una multinazionale che fa laptop e quindi può contenere i costi. Comunque è interessante per tutti quanti i nerd in ascolto perché rappresenta proprio lo spirito del vero nerd, quello che riesce anche a costruirsi il proprio laptop partendo da zero, non soltanto programmando, ma anche mettendo mani appunto alla componentistica. Altro post della settimana, quello di Vincenzo, riguarda l'arrivo di una nuova derivata di Manjaro Linux. Manjaro, che cos'è? Quella derivata a sua volta di Arc Linux che mira a rendere Arc Linux più semplice nell'installazione, nella gestione e quant'altro. Che cosa è successo? È successo che Netrunner, che molti di voi ricorderanno per un piccolo post che ho realizzato qualche tempo fa, una recensione su questa distro, Netrunner è una distribuzione basata su Kubuntu, realizzata da degli sviluppatori di Blue Systems che contribuiscono attivamente al sviluppo di KDE, di Kubuntu e altri progetti, bene, che cosa hanno deciso di fare questi sviluppatori? Hanno deciso di prendere Manjaro nella versione KDE e di modificare a seconda il paradigma di Netrunner, nennata Netrunner Arc Edition, che non so perché l'hanno chiamata Arc Edition, visto che comunque l'avrebbero dovuto chiamare Manjaro Edition. Vabbè, comunque, la prima ISO che è stata rilasciata di questa nuova distribuzione è una ISO soltanto per i sistemi a 32 bit, quindi non potete riprovare se avete un 64 bit, se volete installare a 64 bit. Comunque, cosa ha di particolare questa distro? È che è una Manjaro con un tema grafico diverso, con alcuni soliti trucchi che vengono effettuati dal team di Netrunner che vanno a risistemare il pannello delle impostazioni, riducendo i modi, cioè non proprio riducendo i modi, ma meglio accorpandoli per meglio fare i gestiti dall'utente, un default con alcune estensioni già messi, alcuni plasmoniti già messi, quindi un Firefox modificato con l'integrazione su per KDE e cose del genere. È un nuovo progetto, non so fino a quando abbia senso, perché comunque, appunto, c'è già Manjaro, vabbè. Comunque, è una idea interessante per molti di voi, molti dei miei amici su Google Plus hanno iniziato a sbavare come folli dopo aver visto questa distribuzione, quindi provatela, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Giorno 8 aprile c'è stato un grande avvenimento che ha assegnato la storia dell'informatica. Sto parlando della dismissione da parte di Microsoft di Windows XP, che giorno 8 aprile ha terminato il suo supporto. Microsoft ha terminato di fornire aggiornamenti per questo sistema operativo e ne ha decretato la morte, anche se la gente non voleva che morisse, tant'è vero che ci sono alcuni stati che stanno pagando una specie di mazzetta a Microsoft pur di continuare a avere degli aggiornamenti, perché non riescono ad effettuare la fase di transizione al passaggio di un altro sistema operativo o un'altra versione di Windows, e quindi vogliono ancora tenere per un po' Windows XP e quindi pagano per poter avere aggiornamenti di sicurezza. Come appunto Windows XP ha fatto ciò ciò con la manina e quindi adesso è diventato un pezzo di storia. Con sommo dispiacere di molti di voi, perché comunque Windows XP era comunque un sistema operativo più amato dei suoi figli, delle sue varie incarnazioni, soprattutto di Windows Vista, del suo diretto successore, che ha avuto una sfortuna pazzesca. Nel contempo Microsoft ha rilasciato anche l'aggiornamento di Windows 8.1, Spring Update 1, come lo volete chiamare, lo stesso giorno della morte di Windows XP, cioè un aggiornamento che su Windows 8.1 va ad aggiungere, va a ripristinare la modalità desktop già dal primo invio, perché la gente è quello che vuole, che ne dicano poi i detrattori. Vincenzo comunque ha fatto un piccolo post sulla morte di Windows XP e su perché secondo lui non cambia molto per gli utenti Linux. Perché? Perché, diciamocelo, un passaggio di massa degli utenti, Windows XP verso Linux è una cosa utopica, perché c'è sempre questa tendenza da parte degli utenti comuni a non... ha la paura al cambiamento, ha la paura a passare a un sistema operativo diverso, una paura ingiustificata a mio avviso, è comunque un... diciamo così, secondo me è un'occasione anche persa, comunque che abbiamo perso noi utenti Linux. Negli scorsi mesi, non so se vi ricordate, avevo lanciato alcuni post, alcune iniziative per spingervi ad aiutare le persone al passaggio verso un altro sistema operativo, un sistema operativo Linux, da Windows XP a Linux. Però, come sto vedendo in questi giorni, molta utenza, non se ne frega niente, molta utenza che ha Windows XP, si continua a mantenere Windows XP, se ne frega niente di aggiornare né una messa di Windows successiva, né di passare a un sistema operativo nuovo. Forse perché non c'è tanto la cultura dell'avere un sistema sicuro e cose del genere. Ma comunque, nel post di Vincenzo viene fatto un'analisi del secondo lui che cosa potrebbe accadere se ci fosse appunto una migrazione di massa verso Linux con l'aumento della base e con, secondo lui, in questo caso ci sarebbe un aumento anche di malware che potrebbero nascere come funghi. Andatevi comunque a leggere il suo editoriale. Questa settimana ho avuto anche modo di ospitare, vabbè, che adesso è diventata una firma di Marcosbox, quindi, di ospitare una nuova video recensione di Enrico, altrimenti conosciuto su web con il nickname di Maglietta Bianca. Maglietta Bianca ha quest'oggi, questa volta, analizzato Ubuntu 14.04. L'ha installata, come sapete, nel giorno di 17, se non manerato, verrà rilasciata la versione stabile. Comunque, è stabile. Le ho provate. Vi assicuro che, almeno a mio avviso, a mio modo di vedere, non ho trovato bug su Ubuntu 14.04 negli ultimi aggiornamenti che si stanno susseguendo in questi giorni. ne l'ho provata e devo dire che, secondo me, è anche una buona release, come tutto per l'ETS. Perché Ubuntu quello sa fare, l'ETS riesce comunque a fare sempre bene. Nel suo, però, nella sua editoriale, nella sua video recensione, Enrico va ad analizzare alcuni dei problemi che ha, secondo lui, Ubuntu 14.04 LTS, come mancanza, ad esempio, di innovazione, perché, diciamoci la verità, non è che ha innovato, Ubuntu 14.04 continua a basarsi su Compix, una tecnologia vecchia e mal supportata, continua a non aver innovato chissà che, continua ad avere parti di GNOME messe qui e qui, con versioni differenti, che, diciamoci, funzionano. Però, appunto, non ha innovato, non ha innovato nemmeno sotto al fronte del... per quanto riguarda le web apps. Vabbè, comunque, andatevi a vedere la video recensione di Enrico e magari andate a lasciare un commento in calcio al posto o al video, come preferite. Tornato, poi, il consueto appuntamento del Marcos Box, AYO, che si pronuncia AYO, ricordatelo, che è la nuova rubrica di Stefano, che va ad analizzare, cioè, a raccogliere tutte quante quelle notizie riguardanti il mondo della tecnologia, magari anche in senso alto, non proprio specificatamente, che magari non possono avere un post dedicato su Marcos Box, perché Marcos Box non è che può stare a fare post per ogni cazzata che viene detta in tutto il mondo, a differenza di altri blog. Noi puntiamo sulla qualità, ricordate. Dicevo, e appunto è un raccoglitore di notizie, pescate quella dalla rete. Una delle notizie del Marcos Box AYO 4, che è stato pubblicato, è una notizia carina e interessante. Praticamente, è che un bambino in 5 anni è riuscito ad aggirare le protezioni messe sulla Xbox di Microsoft. Un'altra notizia interessante è che la NASA ha pubblicato un'quantità enorme di software sviluppato internamente e l'ha pubblicato con una licenza aperta, quindi disponibile prossimamente per tutti quanti. andatevi comunque a leggere il catalogo per andare a vedere quali sono gli applicativi che ha rilasciato. Vabbè, altre notizie... Andatevele a leggere, se no poi vi dico tutti quanti rigo, se non per andate a leggere. Ieri ho pubblicato poi un post riguardante che è flatwalken. Spero che si pronuncia così. Speriamo che non mi picchi a riuscite. Che cosa sono? Sono un set di icone dello stesso autore che in passato ha realizzato le famose icone avwalken. autore che fa parentesi. Ho avuto il piacere di intervistare in passato per Marco Spox, perché è un mio amico su Google+. Quindi ci conosciamo. Che cos'è questo set di icone? Questo set di icone è un set di icone flat, minimale, un design pulito, sono belle, sono belle da vedere visivamente, si applicano bene praticamente a quasi tutti i temi, quasi tutti i desktop. E' possibile utilizzarli su KDE, è possibile utilizzarli su XFSE, su GNOME, su Ubuntu, facciamo così, su Ubuntu. Sarà presente a breve anche un PPA per poterlo installare e tenerlo aggiornato in maniera automatica. Attualmente sono scaricabili su JIT. Qual è però anche la cosa carina di queste icone che parallelamente alla versione per Linux viene sviluppata una versione dedicata ad Android. Questa versione per Android che esiste in due parti, cioè la versione quella free che contiene attualmente una 52 icone, se non ricordo male, 52 icone individuali. Una volta messa ritroverete uno smartphone completamente diverso perché le icone sono, danno un gook molto particolare al vostro smartphone. E anche una versione più completa, attualmente sono 145 le icone, che potete acquistare dal Play Store a soltanto 99 centesimi. Pensateci bene di acquistarlo perché perché oltre ad avere maggior numero di icone e anche un piccolo riconoscimento ad Alessandro per l'enorme lavoro che sta svolgendo con questo set di icone perché la cifra è risolta. Prendetelo, scaricatelo, fidatevi sulla parola. Se non vi fidate sulla parola andate a vedere gli screenshot presenti nel post di presentazione dove potete vedere, potete ammirare queste stupende icone. Dimenticavo una cosa che comunque le icone per Android sono compatibili con i principali launcher alternativi che troviamo su Play Store. Sono compatibili con Apex, con ADV, con Nova, con Oro, con Go Lancer, con Lancer Pro, con Trebuchet, di Lancer della Cyanogen Mode e c'è stato aggiunto anche il supporto ad Aviate quel Lancer quello strano quello che è stato acquisito da Yahoo. Quindi è un set di icone completo che è disponibile per la maggior parte dei Lancer presenti sul Play Store. Fateci un pezzerino andatelo a vedere perché è un... sono molto belle. le ultime due notizie della giornata una ve l'avevo accennata prima che è praticamente l'aggiunta del supporto ai falli AVI, MKV e WMV per quanto riguarda i video stream. L'ultima invece è quella di Rodrigo che ha pubblicato un piccolo post su un aggiornamento dei driver Nvidia per la piattaforma Linux. i driver Nvidia si sono stati aggiornati alla versione 337.12 con una grande sorpresa da parte di Rodrigo questi nuovi driver funzionano e hanno migliorato nettamente le prestazioni su Linux. Quindi se avete una scheda video Nvidia supportata dai driver proprietari fateci un pezzerino e installateli perché comunque le prestazioni le noterete le migliori prestazioni le noterete a occhio nudo. Bene con questo ho concluso spero di rivederci la prossima settimana con un post più corto perché mi sono appena ho appena notato che sono a bellezza di 19 minuti che sto parlando speriamo appunto la prossima settimana di avere sempre comunque tante belle notizie da postare su Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo la prossima settimana e ciao ciao